Ben ritrovati da Meteo in Calabria.it. L'inizio di questa settimana sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato grazie alla presenza di un promontorio anticiclonico. Solo nella serata di martedì e la mattinata di mercoledì la Calabria meridionale, ed in special modo quella ionica, sarà interessata da qualche nube con possibili piovaschi a causa del passaggio veloce di una depressione afro-mediterranea. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Oggi cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, ad esclusione dei litorali tirrenici, dove non si escludono momentanee coperture a causa del passaggio di nubi basse. Temperature stazionarie. Domani generali condizioni di cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso del tardo pomeriggio sera, aumento della nuvolosità sui versanti ionici reggini, dove non si esclude qualche possibile piovasco. Vediamo ora invece come si comporteranno mari e venti. Oggi mosso il martirreno con venti deboli da quadranti occidentali. Lo ionio risulterà poco mosso, con venti a regime di brezza. Domani poco mosso il tirreno con debole ventilazioni dai quadranti occidentali. Calmo il bacino dello ionio settentrionale. Mosso quello centro-meridionale, con motondosi in aumento e venti moderati di scirocco. Per ulteriori dettagli vi invito come sempre a consultare il nostro sito internet www.meteoincalabria.it L'appuntato odierna è giunto al termine. Grazie per la cortesia attenzione e appuntamento a domani.